buongiorno signori allora oggi parliamo di freni dunque andremo a spurgare il l'impianto completo abbiamo installato una pompa nuova quindi l'impianto è non dico che vuoto ma partiamo praticamente da zero e cosa facciamo allora innanzitutto ragazzi se vi piacciono i miei video iscrivetevi lasciate un bel like lasciate un commento se vi va ditemi la vostra attivate la campanella delle notifiche se volete supportare il canale acquistate un super grazie già che ci siamo e partiamo con i lavori dunque prima di tutto avendo appunto una pompa nuova serrata cablata eccetera dobbiamo andare a collegarla con la nostra il nostro bullone apposito e mi raccomando controllate sempre che le le rondelle che fanno anche da guardizione siano in buono stato andiamo a montarle ovviamente una sul lato del bullone una sul lato della pompa in mezzo ci va il tubo questo vale per sia per moto scooter macchine qualsiasi cosa quando installate una pompa nuova controllate questo montate il il tubo controllate che sia tutto collegato anche la pinza controllate che ci sia che lo spurgo la vite di spurgo controllate se è inchiodato che cosa dategli prima una mezza svitata basta anche un quarto di giro poi la ribloccate e siete a posto lasciate dentro la chiave collegato un tubo che vada un serbatoio qualcosa comunque per raccogliere l'olio l'olio non buttatelo nel cesso e mi raccomando tenetelo da parte quando ne avete lì un po' andate in discarica e smaltitelo che questo qua inquina che è una meraviglia allora montiamo il tubo riempiamo il serbatoio e incominciamo con lo spurgo e il riempimento dell'impianto tubo collegato olio mi raccomando di qualità è suggeribile il dot 4 perché diciamo che tra virgolette è universale oramai il dot 3 non si usa soltanto sui mezzi veramente veramente vecchi e il dot 5 invece è ottimo però ricordate che ogni sei mesi va cambiato perché si deteriora molto in fretta è un ottimo olio ma si deteriora molto in fretta ora cosa facciamo facendo attenzione a non sbrodolare in giro perché quell'olio qua se va sul sulle parti verniciate le rovina che è una meraviglia perché è molto corrosivo verifichiamo una semplice cosa lasciando il coperchio aperto andiamo a verificare se per caso andando a pompare ci sono alcune pompe che quando si va a pompare cosa fa spara l'olio in su allora è suggeribile ovviamente lasciargli appoggiato il coperchio in modo che non ci sporca tutto tutta l'officina ora si incomincia dando delle pompatine leggere senza andare fino in fondo che non è necessario all'inizio vedete come l'olio va giù molto molto in fretta vedete che tende a sparare in su perché all'interno ci sono due fori uno di riempimento uno di scarico e praticamente andando a pompare spara sull'olio e se date una pompata secca vi spara in giro olio a altre parti ora si vanno a dare delle pompatine leggere senza aprire lo spurgo per far incominciare andare in giro l'olio poi dopo infatti qua sarà meglio quando incomincerò a spurgare sul serio sarà meglio mettergli il tappo perché sennò quando pompo mi spara in giro andate avanti un po così e poi tra un po' incominciamo a dare una spurgata vera e propria infatti guardate che mi ha già perso una goccia io ho messo uno straccio apposta adesso incominciamo andare a spurgare come si deve allora adesso incomincia a diventare duro vuol dire che l'olio è arrivato fino a dove doveva doveva andare fate sempre attenzione al livello se avete il livello che si vede lateralmente oppure semplicemente ci guardate molto semplice ogni 3 4 pompate guardate quanto olio va a bere cosa fate praticamente dovete pompare date 3 4 pompate fatte bene fino in fondo senza calcare troppo non è un non state stringendo la ruota di un camion tirando con la forza che fareste normalmente per frenare cosa fate lasciate lo tenete premuto ovviamente se stesse parliamo di un'auto bisogna essere in due per forza sulle auto attenzione una cosa io consiglio per accelerare i tempi cosa cosa fare visto che il la pompa è sul lato anteriore sinistro dell'auto di andare a incominciare a spurgare dalla ruota posteriore destra praticamente quella più lontana dalla pompa perché una volta fatta quella il resto del dell'impianto è belle che pieno e c'è più di più difficile che ci siano in giro bolle d'aria praticamente fate ruota posteriore destra ruota posteriore sinistra anteriore destra anteriore sinistra e voi avete belle che ha spurgato l'impianto inoltre se magari volete solo cambiare l'olio non c'è bisogno di svuotare l'impianto e poi riempirlo di nuovo automaticamente mettendo l'olio nuovo spurgando da lontano cosa succede che quando incominciate a vedere l'olio chiaro che viene fuori poi andate sull'altra pinza fate la stessa cosa e piano piano avete sostituito completamente tutto l'olio della macchina invece sulle moto o sugli scooter soprattutto sui mezzi che hanno un disco solo che è molto più semplice c'è meno quantità d'olio cosa facciamo il metodo è sempre quello pompate date 3 4 pompate poi tenete in pressione e andate ad aprire lo spurgo semplicemente cosa succede automaticamente la leva andando ad aprire lo spurgo la leva andrà fino in fondo non vi spaventate e non mollate la leva sia la leva o il pedale nel caso di un'auto la tenete premuta chiudete lo spurgo e poi rilasciate fate qualche pompata che si riempie di nuovo pompa impianto 3 4 pompate quando lo sentite bello duro andate ad aprire di nuovo lo spurgo e via così finché non vedete più per 4 5 passaggi cioè pompa pompa aprite lo spurgo questo un passaggio quando lo fate per 4 5 volte vedete che non non esce neanche una bolla d'aria e sentite la leva che è bella dura vuol dire che voi siete a posto se nel momento che esce ovviamente l'olio chiaro dalla pizza non esce più aria e sentiamo la pompa che è bella dura sentiamo la leva o il pedale che sono belli belli tosti belli belli duri non che schiacciate tenete premuto e sentite la leva che si va a comprimere perché cosa succede vuol dire che c'è dentro ancora aria perché i liquidi non sono comprimibili invece l'aria si se voi pinzate tirate la leva o il pedale e sentite che piano piano va giù sono due motivi o c'è aria o c'è una perdita però se c'è una perdita penso che chiunque se ne accorge perché la goccia per terra la trovate quindi andiamo a spurgare il nostro impianto occhio sempre a livello perché se per caso finisce l'olio dovete ricominciare tutto a capo perché c'è aria torna l'aria nell'impianto una volta che finisce l'olio l'olio andate a pompare dentro aria e siete appunto a capo andiamo a fare un paio di andiamo a dargli una bella pompata una bella spurgata il serbatoio è bello pieno è già molto dura e adesso si comincia vedete che la leva è andata a pacco chiudiamo lo spurgo e poi molliamo in questo caso è ancora bella dura molliamo pompiamo già la leva si è allontanata parecchio dalla manopola perché si sta riempiendo già così andrebbe bene però voglio fargli fare un paio di cicli perché qui dentro potrebbe formarsi dell'aria quindi è sempre meglio controllare controllate anche che non ci siano perdite giustamente controllate il livello dell'olio quando arriva a metà arrabbocchiamolo infatti è già arrivato a metà dopo 3-4 pompate è già arrivato a metà vuol dire che si sta riempiendo vuol dire che c'è in giro aria sicuro e continuiamo così finché non siamo più che sicuri che è tutto a posto e avanti savoia perfetto la leva è bella dura tenendo la premuta non cerca di andare indietro ora il serbatoio è bello pieno il livello non so se si si vede bene comunque praticamente a tre quarti del foro di controllo dell'oblò di controllo lo sento bello tosto pastiglie sono a pacco non esce più aria e noi siamo a posto perfetto è molto se un'operazione molto semplice ovviamente se se la si sa fare ma non è complicato basta essere accorti basta stare attenti che pompa 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 tieni premuto apri lo spurgo questa va giù non rilasciatela chiudete lo spurgo e rilasciate pompate olio basta è relativamente semplice però bisogna stare attenti a farlo bene perché sennò quando si va a frenare la leva arriva in fondo e fate un bel dritto fate attenzione se non siete sicuri cosa state facendo affidatevi a un professionista che è sicuramente meglio ragazzi alla prossima